sarà Gianluca Serra per la presidenza regionale il leader della classifica generale dopo la seconda tappa è un corridore tedesco per l'otto sud alla signore e signori, Andre Greipel Andre Greipel, l'otto sud alla viene premiato da Gianluca Serra per la presidenza regionale la maglia rosa, il simbolo del primato nella centesima edizione del Giro d'Italia sulle spalle del campionale nazionale di Germania Andre Greipel che ha in corsa il dorsalino numero 100 applausi, solo applausi per Andre Greipel grazie a tutti grazie a tutti